Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mantieni, mantieni. Pronti? Ciao, buon volo. Vai. Ciao. Wow. 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 Mamma mia. Wow. 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 Ok. 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 Pronta? Pronta? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Aspettate un secondo. Un attimo, controllami un attimo le... Pa. Mi controlli questo, per favore. Mi controlli questo, per fav... Ehi, cazzo. Sì. Questa è narrazione. Sì? Ciao Lucia! Arriviamo! E' più impressione questi gatti! Mamma mia! Hai più impressione l'arrivo! L'ha fatto vedere l'arrivo! Mannaggia! Ok! Uh!